Musica Seconda giornata di Cassi in cui ha misto Polini è davvero uno scorrere di bellezze mossafiato esattamente come la numero 24 Nome? Sara Oh questa splendida ragazza mora di cui io voglio sapere un po' di cose Sara per favore per tutto il pubblico di misto Polini raccontati insomma raccontaci un po' di te cosa fai nella vita se studi i tuoi sogni Sono una studentessa del Carducci e sono una ragazza un po' timida anche determinata Il tuo sogno nel cassetto? Andare a Los Angeles Ah quindi un viaggio dall'altra parte del mondo come mai è Los Angeles questa città enorme cosa che ci sono le star di Hollywood no c'è il mare Mi affascina molto Tu di dove sei? Io sono di Trieste Di Trieste lei ha un viso davvero dolcissimo mi lascia rapire mi capita molto spesso delle nostre aspiranti bene Senti Sara c'è un portafortuna? Un qualcosa? Un oggetto che ti porterai dietro? Un qualcosa che ti dà sicurezza? O punti tutto sulla tua determinazione? Sulla mia determinazione Bene bene senti domandina un po' privata così sei fidanzata? No per ora no Tu sai che noi abbiamo anche i mister che si iscrivono qui a Mistopolini quindi magari per te l'opportunità oltre che quella di vivere un'esperienza no speriamo divertente anche magari quella di trovare l'amore Ok Non si sa mai Sì infatti Allora incrociamo le dita perché lei è molto emozionata quindi in bocca al lupo e per te anche lì l'opportunità di guardare la telecamera e di salutare chi vuoi Saluto i miei genitori e gli mando un bacio In bocca al lupo Crepe Se volano rata ta No te ponga bruto Que te la bebe Rata 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 Rata